buongiorno e bentrovati buon venerdì 10 maggio oggi la chiesa ricorda san giovanni di aivila che nel 1500 in spagna fu un grandissimo predicatore un santo che invitò tante persone a convertirsi al signore e guidò sul piede della santità tantissimi uomini e donne nel suo tempo ecco il vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano lettura del vangelo secondo giovanni in quel tempo il signore gesù disse ai suoi discepoli vi lascio la pace ridò la mia pace non come la dal mondo io la do a voi non si è turbato il vostro cuore e non abbia timore avete udito che vi ho detto vado e tornerò da voi se mi amaste vi rallegrereste che io vado al padre perché il padre è più grande di me ve l'ho detto ora prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate non parlerò più lungo con voi perché viene il principe del mondo contro di me non può nulla ma bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e come il padre mi ha comandato così io agisco parola del signore siamo nei discorsi dell'ultima cena gesù dona a noi come gli apostoli la pace vi lascio la pace ridò la mia pace ma giunge non come la dal mondo sì perché il mondo della logica si dispace parabellum se vuoi la pace prepara la guerra così già dicevano gli antichi romani e così è la logica del mondo la logica della deterrenza della verani più forti per evitare che gli altri ci invadano se vuoi la pace prepara la pace questa è la logica del vangelo la pace che da gesù è la pace che viene da dio non si è turbato il vostro cuore non abbia timore è la pace che da sicurezza che da serenità avete udito che ho detto vado e tornerò da voi gesù dice vado perché va al padre attraverso il cammino salminato della croce attraverso il cammino glorioso della sua risurrezione attraverso la sua gloriosa ascensione al cielo e gli va al padre tornerò da voi e gesù è tornato risorto ma ritornerà ancora alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti e in quel giorno sconfiggerà totalmente tutte le potenze del male e il diavolo già sconfitto mediante la sua passione è per quello che gesù dice non parlerò più lungo con voi perché viene il principe del mondo il principe del mondo è satana non viene sconfitto da gesù scusate gesù non viene sconfitto da lui ma viene il principe del mondo sconfitto da gesù attraverso la sua morte la sua risurrezione perché gesù si offre sull'altare della croce come sacerdote vittima perché ama il padre infatti gesù dice bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e come il padre mi ha comandato così io agisco l'offerta sulla croce è obbedienza al padre e così la vittoria affidiamoci al signore crocifesto e risorto che scende al cielo per camminare anche noi sulla stessa via dell'obbedienza dio la vergine maria ci protegga in questo cammino di obbedienza e di offerta pasquale siano dato gesù cristo